Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo webinar che ha un argomento, tratterà di un argomento particolare perché parleremo di come salvare i compiti che abbiamo creato in Classroom. Sì, perché voi pensate di sapere come si salvano questi compiti e pensate di esserne i proprietari, ma le cose non stanno proprio così. Perché? Il problema dei compiti creati con G Suite in Classroom. Siamo in questa situazione. La scuola ha installato G Suite e Classroom e ti ha assegnato un indirizzo email. Normalmente nome.cognome.it, cioè sei all'interno di un'organizzazione. Tu entrerai quindi all'interno di Classroom con l'ID di Google che la scuola ti ha assegnato. E cosa hai fatto? Hai creato dei test, per esempio, per i tuoi allievi, proprio con gli strumenti della G Suite in Classroom, nel tuo corso. La questione è ma sei davvero sicuro di essere il vero proprietario dei tuoi compiti e risorse? Perché la questione è che formalmente sei tu il proprietario, ma nella realtà è l'organizzazione della tua scuola. E lo stesso vale ovviamente per un'azienda, che è il reale proprietario. Infatti, che cosa succede? Che se tu cambierai scuola, perderai quello che hai fatto. Perderai quello che hai fatto perché il tuo account dovrà essere cancellato per una questione evidente di privacy. Non puoi portarti in giro dei documenti riservati che stanno all'interno della tua organizzazione. Quindi, sopra di te c'è un altro livello che domina. E allora, vediamo un po' come stanno le cose. Perché se tu cambi organizzazione, perdi i tuoi documenti. Sei davvero disposto a perdere il lavoro di mesi che tu hai creato con i tuoi studenti e nessuno ti ha spiegato che quel lavoro resta all'interno della tua organizzazione. e quando te ne vai lo perderai? Bella questione. Dobbiamo pensare a che cosa fare. Devi avere un altro ID Google. Per esempio, potresti già avere il tuo ID Google personale. Oppure, se non ce l'hai, creane un altro. Quindi, d'ora in poi distingueremo i due identificativi Google. Quello che ti ha assegnato alla scuola è quello che avrai tu personalmente. E allora il sistema consiste nel trasferire i compiti che crei da Classroom, i compiti, i documenti, tutto ciò che tu crei al suo interno, al tuo Google personale. Ma la cosa è semplice, ma non è così intuitiva e soprattutto non la puoi fare nel modo con cui tu credi di operare all'interno di Google. Cioè non la puoi fare come fai normalmente con i documenti, se hai un account Google personale, che utilizzi all'interno di questo tuo ID. Dal drive del tuo ID Google della scuola Classroom, crea una copia. ecco che cosa devi fare. Hai creato il tuo compito. Questo è un classico compito Classroom. Il compito, il titolo, è chiaro. Hai aggiunto che cosa? Anzi, hai creato, con questa sezione, hai creato un modulo, un modulo di Google, cioè un testo, un testo sull'acqua, diciamo così. Perfetto. Adesso, dall'ID che ti ha dato la scuola, accederai a Drive. Farai clic sulla dashboard, quella dei nove pallini, e all'interno di Drive, del Drive che corrisponde al Classroom che ti ha assegnato la scuola, troverai il documento acqua, questo test. Lo potrai trovare nel tuo Drive fra i documenti ad accesso rapido, in bella evidenza, perché l'hai appena creato, oppure lo dovrai andare a cercare sfogliando il tuo Drive. In ogni caso, quando l'hai trovato, che cosa farai? Con il computer, stiamo parlando quindi di accedere a questi documenti attraverso un computer, con il tasto destro del mouse, creerai una copia di questo documento. Una copia. Crei questa copia e poi, e poi dal Drive del tuo ID Google della scuola Classroom, trasferirai questa copia al tuo ID invece Google personale. Come? Sempre con il tasto destro del mouse, sulla copia che hai creato, scegli l'opzione Condividi. Si aprirà una schermata, ovviamente, e vedrai che in questa schermata il proprietario del documento formalmente sei tu. Questo è un bene ed è un male allo stesso tempo, perché? È un bene perché dice, va bene, tu sei il proprietario di questo documento, ma tu non puoi trasferire la proprietà di questo documento all'esterno della piattaforma Google della scuola, cioè della tua organizzazione. Quindi, nella sostanza, se tu condividessi normalmente questo documento con te stesso o con un'altra persona al di fuori dell'organizzazione, il proprietario rimaresti sempre tu e qualora un domani tu lo cancellassi, verrebbe cancellato anche il documento condiviso all'esterno. Ma intanto questa condivisione va fatta e quindi inserirai il tuo ID personale Google per condividere questa copia che tu hai fatto. Anche se provi a cambiare il proprietario, vedrai che ti verrà fuori un messaggio di errore. Quindi è un'operazione totalmente inutile. Confermi? È interessante quello che c'è scritto, perché dice stai condividendo con Alberto Pian, eccetera, che non fa parte dell'organizzazione G Suite a cui appartiene questo elemento, cioè ti dice stai portando fuori questo elemento. Adesso che cosa facciamo? Tu hai ricevuto sul tuo ID personale, eccolo qua, hai ricevuto il documento e infatti passerai dall'ID della scuola al tuo ID personale Google. Sarai dentro Drive e all'interno di Drive troverai la copia di questo documento, si chiamerà copia di acqua. Che cosa dovrai fare? Dovrai fare in modo che questo documento diventi tuo, ma non lo puoi fare perché questo documento, anche se è una copia, è stato sempre creato nell'altro ambiente, quello che appartiene alla scuola. Quindi non può uscire, non può essere trasferita questa proprietà. E allora tu dovrai creare una copia di questo documento all'interno del tuo Drive. E così sarai sicuro, attraverso l'opzione condividi puoi verificare, sarai sicuro che il proprietario questa volta sei tu. E a questo punto si sono sganciati tutti i collegamenti fra questo documento e quello della tua scuola e potrai conservarlo, creare un archivio e conservare i tuoi documenti. Quindi ricapitolando, abbiamo detto che dovrai creare un documento all'interno del Google, un compito all'interno del Google della tua scuola, ne dovrai fare una copia, la condividi con il tuo ID personale e una volta condivisa con il tuo ID personale ne farai un'altra copia. Quella copia la conservi, ovviamente cambierai il nome e l'archiverai. Bene, e se si verificasse invece l'intenzione di operare in modo inverso? Cioè, data questa complicazione, io decido che i miei moduli, compiti, presentazioni, test, non li creo più all'interno di Classroom e mi sembra una gran bella idea questa, ma li creo all'interno del mio ID personale e quindi tutto mi rimane lì e casomai farò delle copie da portare nel Google della scuola. Questa è una soluzione ancora migliore. Quindi quello che devi fare è passare dall'ID della tua scuola al tuo personale Google, quindi entri nel drive legato al tuo account personale. Crei attraverso l'applicazione moduli, crei il tuo test, lo chiamiamo acqua nuovamente, poi ne farai una copia, vedi copia di acqua e questa copia la condividerai. La condividerai esattamente nel modo in cui hai condiviso prima la precedente, cioè la condividerai al tuo ID Google che la scuola ti ha fornito e dopodiché cambierai di nuovo account, vedi, ti troverai all'interno della tua organizzazione, apri il tuo drive, troverai la copia di acqua, eccola qui, creerai una copia di questo documento e questo sarà il documento che tu allegherai a un compito da distribuire ai tuoi allievi. Ricapitoliamo brevemente questa procedura, sei all'interno del Google della personale, entri in drive, crei con moduli del tuo documento oppure crei una presentazione, quello che vuoi, l'importante è che tu poi faccia una copia di questo documento e questa copia sarà quella che condividerai al tuo ID Google che la scuola ti ha fornito. Entri all'interno di questo drive e farai una copia della copia, una copia di questo documento. Questo, la copia della copia, sarà quella che userai con i tuoi studenti. Proviamo a fare una prova sul campo. Siamo all'interno di Classroom dove abbiamo creato un compito, a questo compito abbiamo assegnato un modulo, questo modulo, eccolo qua, è acqua e vorremmo proprio portare questo test nel nostro ID Google. E allora accederemo al nostro drive, lo si farà così, da questi puntini, drive, vedete che siamo all'interno della nostra organizzazione. Questo è il documento che abbiamo creato, molto semplicemente così, con il tasto destro del mouse ne creiamo una copia. Eccola qua, questa è la copia. Sempre con il tasto destro del mouse, scegliamo l'opzione condividi, inseriamo il nostro ID personale di Google, eccolo qua, e inviamo il documento. Confermi? Certo che confermiamo. A questo punto dobbiamo passare dal nostro ID assegnatoci dalla scuola a quello personale, quindi faremo semplicemente così. Ed eccoci qui, abbiamo la nostra copia di acqua. Facciamo la copia della copia. Cambiamo nome. e guardiamo, guardiamo com'è la situazione dal punto di vista della proprietà di questo documento. Ed ecco qua, la proprietà è assegnata al nostro ID Google personale. Quello che vi ho spiegato è un sistema per lavorare velocemente con i documenti che voi create di volta in volta. Io preferisco operare dal mio ID personale e poi trasferire i documenti a Classroom, in modo tale che ho la mia organizzazione, ho i miei documenti, ho le mie immagini, ho i miei filmati, ho tutto quello che mi serve nel mio ID personale e poi utilizzo in subordine quello che la scuola mi fornisce, o l'organizzazione di cui faccio parte mi fornisce. Però Google offre anche la possibilità, un po' razzigogolata, di creare dei backup. Razzigogolata perché non è automatica. Di solito i backup hanno delle funzioni automatiche. Invece questa bisogna svolgerla manualmente. Allora che cosa bisogna fare? Entrate nel vostro ID Google dell'organizzazione e poi fate così, gestisci il tuo account Google. Vi apparirà una schermata che è questa, che vi dice benvenuti e puoi trasferire i tuoi contenuti. Questa è la prima operazione da fare, avvia il trasferimento. Anche in questo caso, vedete, c'è comunque bisogno di avere una Gmail personale, un ID Google personale. Perché? Perché ve lo chiede, vi dice, inserisci un account di destinazione. Quindi si trasferiscono i documenti che voi avete nel Google istituzionale dell'organizzazione a quello vostro personale. Prima di farlo però, leggete le informazioni perché ci sono delle procedure da fare. Riceverete una mail, questa mail avrà un codice, voi dovrete utilizzare questo codice, quindi dovete ritornare all'account dell'organizzazione. Dovete scegliere i file, i documenti da copiare, da trasferire nel vostro sistema e poi la procedura avrà inizio. Ci sono due cose importanti da sapere su questa procedura. Uno è che tutte le volte che voi fate una copia, lui vi prepara dei backup successivi, quindi vi riunisce in cartelle i documenti e quindi voi vi trovate un'articolazione di cartelle che poi dovete ovviamente riorganizzarvi. La seconda è che questa procedura non è automatica perché ci può mettere qualche ora oppure, dice Google, anche una settimana. Insomma, ci può mettere un po' di tempo. Dovete anche tenere conto che alle volte si possono verificare dei problemi, io ne ho avuti in qualche caso, però certamente resta una soluzione interessante per fare ogni tanto dei backup complessivi dei lavori nel caso in cui voi decidiate di creare tutti i vostri documenti all'interno di Classroom. Allora ha un senso questa operazione, altrimenti come io vi suggerisco tenete il vostro Google personale come lo strumento principale di lavoro, poi da lì trasferite attraverso il sistema di copie che vi ho spiegato a Classroom e quindi poi diffondete i compiti i vostri allievi su questa base. Ed ecco, abbiamo limitato questa volta l'argomento a un campo molto circoscritto perché richiede una certa attenzione, ma ci vedremo per altri interventi e webinar. Ciao! Ciao!